Ciao a tutti, è sempre un'emozione a chiuscire una partita da questo stadio. Nesta, palombo, palla che non filtra. Bella intervento ma non controlla il panno. Mieguo, gruppo palla all'avversario. Crescite. Lì potrebbe costare. Nulla da fare. Flamini. Mierde. Flamini. Crescimento, a calibra. La buona corrisposta. Pince dall'arbitro che resta l'azione per fuori gioco. Peccato perché il giocatore è un ansiedicchio verso la rete. Pince dall'arbitro che resta l'azione per fuori gioco. Sì, nulla da fare per il portiere. Si ricomincia con il Milan che comincia la gara. Del Piero. Pince dall'arbitro. Pince dall'arbitro. inizio laterale. Pince da... Posizione giudicata e regolare dall'assistente dell'Ardeno. Magrezzi. Diego. Chiellini. Diego. Attenzione solo! Anche il piede va a mettere il caccio d'angolo.